Modena, l'arcivescovo avanza sulla nuova pista verso le losanghe del traguardo per la benedizione. Anche gli aerei qui hanno diritto di cittadinanza. Questo è un aeroautodromo. Il ministro Simonini taglia il nastro inaugurale. Una mezza tenuta da corsa a Nuvolari, ma rimarrà spettatore. A Modena le Ferrari sono di casa. Ascari fa le valigie, si parte. Fangio fa da motore al suo motore, come per dirgli a buon rendere. Tra le macchine che si schierano sulla linea di partenza, ce n'è una che ha per motto Gallina Vecchia Fa Bon Brodo. Le si fa gentilmente capire che è meglio che vada a cuocere nel suo brodo. Partiti! Devono percorrere giro su giro 304 chilometri. Non mancheranno le emozioni. Le curve non sono ancora tutte a punto. Teniamo d'occhio il 14, è Ascari. Facile dominatore fin dall'inizio. 8 secondi già lo dividono da Fangio e Serafini. E non siamo che al quinto giro. Ferrari si volta, c'è qualcosa che non va. Fangio si è dovuto ritirare per avaria alle valvole. Si ritira anche Biondetti, rottura della pompa della benzina. Ascari non deve forzare la sua nuova 2 litri. Negli ultimi giri raggiunge anche il record di velocità. Giù la maschera, Ascari. Ci piace di vedere il volto di un vincitore.